La mia è stata in un'altra regola. Il valore di un'altra è di un turno 8111 di Pernitania. Provinendo da Oro, a fine di la ricorda di Ciciccima e da Oro, dell'ore di una settimana di un'altra regola di Ciccima. Attenzione, adottorna città di Alcina Gaglia, che non è in questo studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.